ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi siamo sui sonzo di nuovo e cerchiamo di provare una mappa con te la base non ci riusciamo con le trippi da completemi io sto sua mi sto addentrando verso più chiarissimo e da me che poi vabbè ho capito eccoci e ah già ci sia sto questo è un pezzo o xiii o xiii o xiii c'è l'ultimo efe come questi punti di scuola nooo ti ricordo cazzo non ho salvato il nostro qua si ma bene non è possibile ma ma mi è giusto un autobus s'è l'ultimo s'è l'ultimo s'è l'ultimo puuuu che s'è l'ultimo no 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 s'è l'ultimo s'è l'ultimo s'è l'ultimo s'è l'ultimo e sono morto io eppure tu eeeh senza testa s'è l'ultimo s'è l'ultimo aferantino s'è l'ultimo s'è l'ultimo s'è l'ultimo nooo Benzo compiamoli duro, stiamo a morire, compiamoli duro penso ah mi ha ci sopra vabbè che partidone vabbè che mi sa da rotestare no no l'attacco c'è l'attacco prendiamo la posizione oh venezia ecco il oh un po' mi makes serve supporto no no su suuuu 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 forza la buona forza la buona esempio ragazzi offensi regno di italia è prima della figa di statistica Grazie per la visione subito ragazzi.